Elisabetta Grego Assi Show. Ecco come ha reagito la famosa sciogherla, ma prima di scoprirlo assicurati di esserti iscritto al nostro canale Gossip, lasciare un like e commentare, grazie. L'irresistibile e sempre glamour, Elisabetta Gregoraci, ha fatto sussultare gli animi nel pittoresco paesino di Noto, in Sicilia. Indossando un abito bianco elegantissimo che metteva in risalto ogni curva, l'iconica sciogherla è stata fermata da una folla di ammiratori affascinati. Ma non è stata solo il suo look a catturare gli sguardi, bensì il suo atteggiamento amichevole e solare. Mentre si aggirava per il centro storico di Noto, celebre per la sua architettura barocca, Elisabetta è stata letteralmente circondata da passanti affascinati e curiosi, ansiosi di una foto insieme all'affascinante diva. Il suo look da red carpet, con uno scollo generoso e una chioma bionda sciolta che sembrava fluttuare al vento, ha fatto impazzire i presenti. Ma c'è di più nella storia dietro questa apparizione mozzafiato. A far da spalla alla star, c'era il suo nuovo amore, Giulio Fratini, che non è passato inosservato. Lui, l'amministratore delegato della rinomata Holding Belvedere Angelico, è più giovane di Elisabetta di ben 12 anni. Eppure, la differenza d'età sembra essere solo un dettaglio insignificante quando si tratta di amore e passione. I testimoni oculari non hanno potuto fare a meno di notare la reazione di Elisabetta quando è stata avvicinata dai fan. Contrariamente alle aspettative, la bellissima presentatrice non solo ha accolto con sorrisi e affabilità le richieste di selfie, ma si è anche lasciata immortalare in pose divertenti e spensierate, dimostrando che dietro la sua eleganza e bellezza ci sia anche un cuore caloroso. Ad aggiungere un tocco di dolcezza alla narrazione, c'è la testimonianza di Dejanira Marzano, una nota esperta di gossip, che ha avuto l'opportunità di parlare con alcuni turisti presenti durante l'incontro eccezionale. Elisabetta Gregoraci è a noto con il suo nuovo fidanzato, scrivono, enfatizzando la sua gentilezza e disponibilità, anche in mezzo alla folla che si è radunata. E i resoconti non finiscono qui. Un video inviato dai fan testimonia è il momento incantevole. Elisabetta che si mette a suo agio per le foto, mentre Giulio, l'uomo d'affari dietro il nuovo capitolo della sua vita, osserva con un sorriso affettuoso. Questa estate sembra essere stata un vero e proprio tripudio d'amore per la coppia, con fughe romantiche tra la Grecia e il Sud Italia, e un amore che, finalmente, non è più un segreto ma un sogno condiviso con il pubblico. Intrighi amorosi, eleganza travolgente e sorrisi autentici, sembra che Elisabetta Gregoraci abbia regalato a noto un'esperienza che nessuno potrà mai dimenticare. E mentre l'estate volge al termine, il calore di questo nuovo amore continua a bruciare luminoso come il sole estivo. Continuate a seguirci.